Buongiorno, io e il mio caro amico e fratello di Cammino Albertino, stamattina ragionavamo sull'importanza del dire grazie e Albertino subito mi ha detto guarda che tuono silenzioso ha parlato un giorno del ringraziamento. Vai, c'è un video che dice il pensiero di tuono silenzioso rispetto al fatto di ringraziare. Sono andato e come sempre con grande soddisfazione ho trovato questo bellissimo video e questo testo stupendo. Ringraziamento al grande spirito di tuono silenzioso alla nascita del suo decimo figlio. Grande spirito, fai che la mia donna viva per allattare nostro figlio. Fai che il suo seno sia rigonfio per nutrirlo. Fai che viva per crescerlo come ha cresciuto gli altri. Fai che viva per non lasciare i suoi figli orfani e non lasciare me nello sconforto per la sua perdita. Permettimi grande spirito di vivere abbastanza per poterlo guidare. Per potergli insegnare quello che mio padre ha insegnato a me. Dagli un corpo sano perché non si vergogni di suo padre e di sua madre. Dagli uno spirito nobile perché sia d'esempio per i suoi figli. Conducilo a te aprendo i suoi occhi e il suo cuore. bastonalo se lo ritieni opportuno e bastona anche me se si sentirà solo. Egli è l'ultimo dei miei figli e come le dita delle mie mani sarà ugualmente importante per me. Lo lascerò crescere come tu hai deciso e quando si troverà nell'incertezza gli mostrerò le strade che mio padre ha indicato a me. E così come io ho potuto scegliere liberamente il mio sentiero anche lui non troverà ostacoli da parte mia. Concedi mio grande spirito di vederlo cavalcare al mio fianco nella caccia e di danzare con me per ringraziarti dei tuoi doni. Concedigli di raggiungere le tappe che faranno di lui un uomo e poter da vecchio sedere con gli anziani. Dagli la saggezza che io non ho avuto affinché la tribù gli renda onore. Veglierò su di lui fino a quando me lo concederai per lasciarlo quando lo desideri nelle tue mani. Grande spirito. Stupendo. Grazie Albertino, grazie a tuono silenzioso e grazie al grande spirito naturalmente. Non ti sento Albertino? Hai chiuso il microfono magari? Eccomi qua. Avevo chiudo un po' per non interferire. Dicevo che bisognerebbe vivere come tuono silenzioso. In questo caso parla del figlio e della responsabilità che si è trovato e delle paure di aver sbagliato, ma comunque sempre con una grande fede. E questa è la molla, credo, che spinge l'essere umano ad avvicinarsi a Dio, a sentire e a sapere anche come muoversi nella vita, nei confronti della realtà, non solo con i figli, ma con tutti, con tutto, alla fine con tutto, in armonia con il tutto. Qua bisogna dire di nuovo grazie. A proposito di ringraziamenti, mi viene in mente, io voglio solo aggiungere questo episodio, questo sogno che ho fatto prima ancora che mia madre morisse, come fosse un monito, come fosse un insegnamento che io dovessi incidere nel mio cuore e nella mia mente. che non dovessi dimenticare. E apparsa in sogno a me e mi ha detto, Riccardo, ricordati bene che si tende a dimenticare chi ci vuole, chi ci ha fatto del bene. Come dire, tu non dimenticarti, tu continua a dire grazie e ricordati chi fa del bene per te. Bellissimo. Sei stato fortunato. Un ottimo contatto. Benissimo, così. Ringraziamo e alla prossima, al prossimo incontro tra queste due anime e grazie a voi che continuate a seguire i nostri incontri. Alla prossima volta. Salve a tutti. Arrivederci.